La politica italiana adesso approvata ieri con il voto di fiducia al Senato, la legge di bilancio passa ora alla Camera, tempi molto stretti per l'esame a Montecitorio, anche qui si profila il ricorso alla fiducia. Vediamo allora con Luca Patrignani i contenuti principali della manovra. Il Senato approva. Quello che esce dal Senato ormai è il volto definitivo della manovra. Il passaggio alla Camera infatti sarà blindato visti i ritardi accumulati. Il governo potrebbe porre la questione di fiducia domenica. Al centro della legge di bilancio i 23 miliardi stanziati per bloccare gli aumenti dell'IVA che altrimenti sarebbero scattati a gennaio. La spada di Damocle delle clausole di salvaguardia però resta sugli anni successivi. Per evitare altri rincari bisognerà trovare quasi 50 miliardi nel biennio 2021-2022. Da luglio il taglio del cuneo fiscale, 3 miliardi per ridurre le tasse sul lavoro ai redditi medio-bassi. Addio ai super ticket sanitari da settembre. Potenziato il bonus asilinido che potrà arrivare fino a 3 mila euro. Più risorse e assunzioni per sanità, vigili del fuoco e scuola dell'infanzia. Per le neomamme che non possono allattare naturalmente, nuovo bonus per il latte artificiale fino a 400 euro per sei mesi. Le cosiddette microtasse vengono fortemente ridotte rispetto all'impostazione iniziale. Quella sulla plastica scatterà da luglio, scende a 45 centesimi. Quella sulle bevande zuccherate è rinviata a ottobre, 10 centesimi al litro. La tassa su giochi e lotterie invece sale al 20% per le vincite oltre 500 euro. Confermati i bonus per l'edilizia, arriva poi la nuova detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate. Accelerazione finale anche per il decreto fiscale che accompagna la manovra. Il voto di fiducia oggi a Palazzo Madama. Intanto c'è soddisfazione nella maggioranza per l'intesa raggiunta sulla manovra. Riflettori puntati ora sugli altri dossier aperti come banche, autonomie, giustizia.